Una cittadina pescarese di 63 anni è stata denunciata a seguito di una operazione portata a compimento dai militari della Guardia di Finanza di Pescara. La donna, pluripregiudicata per spaccio di sostanze stupefacenti, all'atto della presentazione della domanda per usufruire del reddito di cittadinanza, ha prodotto una documentazione falsa dichiarando di avere a carico una famiglia di incensurati, quando invece il figlio è agli arresti domiciliari per oltraggio pubblico ufficiale. Uno stratagemma che le ha permesso di intascare per un anno e mezzo un assegno da 1.100 euro al mese con una truffa perpetrata ai danni dello Stato di circa 20.000 euro. Nell'ambito dell'operazione i militari delle Fiamme Gialle hanno chiesto all'autorità giudiziaria la revoca del beneficio del reddito di cittadinanza e il sequestro preventivo delle somme ottenute illecitamente. Le indagini fatte di accertamenti, controlli e rese possibili grazie all'incrocio e alla elaborazione dei dati disponibili nel patrimonio informativo della Guardia di Finanza hanno disvelato un meccanismo ormai tipico di chi vuole ottenere il reddito, ma non l'unico. Tra i percettori abusivi vi sono anche stranieri non residenti, evasori totali, proprietari di ville e autovettore di lusso appartenenti ad associazioni criminali dedite a traffici illeciti o persone condannate in via definitiva. Numeri alla mano, fa sapere la Guardia di Finanza, nel solo 2021 sono 217 milioni di euro richiesti da chi non ha alcun titolo per farlo.